Il Tocchi Volley è anche questo, due sorelle che si ritrovano avversari in campo. Asia e Sara Loggerfo, ciao ragazze! Ciao! Intanto ha vinto per la cronaca Asia, la più grande. Com'è andata la partita Asia? Diciamo che nonostante appunto sono i piccoli Tocchi, quindi sono ragazzini, è stata una partita abbastanza abbastanza battuta e ci sono fatti valere. Però alla fine, per poco, ha vinto noi. L'ingresso di Sara in campo ha cambiato la partita per i piccoli Tocchi. Sara, che te ne sembra di questo torneo? Sei la prima esperienza. Vabbè, in questa partita diciamo che anche se l'abbiamo persa, alla fine eravamo pari passo, però abbiamo dato, diciamo, appunto siamo piccoli e questo è già il cycle che è andato. Avete giocato bene. Allora Asia, chi è più brava a tirare le due a pallavolo? E a scuola chi è più brava? Forse lei. Forse. E chi rimorchia di più? Lei è il fidanzo di papà. Lei è il fidanzo di un caglio. E la cocca di papà Andrea chi è? Un camper, tutte e due. Tutte e due? Vostro fratello magari. L'ha fatto, l'ho viziato. Ok, ciao ragazze, alla prossima.